Dai andiamo a fare due operazioni, sono queste le scarne parole pronunciate al titolare dell'agenzia 5 della BCC di Fano di Viale Italia dal rapinatore solitario per farsi consegnare il poco denaro in cassa che c'era alle 9.40 di questa mattina dopo avergli mostrato una pistola con fare calmo e senza agitarsi il rapinatore ed il direttore sono andati così dalla cassiera dello sportello e si sono fatti consegnare il contante 3.800 euro appena che il bandito ha messo in un sacchetto di plastica ed ha infilato in una cartellina porta documenti gialla e ha guadagnato così l'uscita una rapina lampo durata orologio alla mano appena un minuto e 40 l'uomo è entrato dalla porta principale e l'allarme non ha suonato quindi si presuppone che l'arma fosse un giocattolo a volto scoperto senza indugiare si è diretto dritto all'ufficio del titolare il quale riferisce che il rapinatore vestito con una normale t-shirt azzurra e scarpe ginniche bianche aveva un leggero accento meridionale ma parlava correttamente in italiano e con tono calmo una volta fuori dalla banca il rapinatore si è diretto a piedi verso la scuola nuti e girandosi una sola volta probabilmente per vedere se qualcuno lo seguiva e ha fatto così perdere le sue tracce alcuni residenti del posto parlano di un'auto che era ad attenderlo con alcune donne a bordo e che poi si sono diretti verso l'interquartieri ma di questo aspetto gli inquirenti non danno nessuna conferma al momento della rapina oltre ai due impiegati c'erano anche presenti due clienti della banca che non si sono accorti di nulla se non alla fine quando il titolare ha dato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fano che coordinati dal capitano Alfonso Falcucci ora stanno indagando sulla rapina supportati in loco da una volante del commissariato di Fano al vaglio degli inquirenti in queste ore i filmati delle videocamere sia esterne che interne all'istituto di credito che hanno immortalato l'uomo durante la rapina